Salve a tutti ragazzi, oggi video acquisti, lo so dovevo farlo di gesta domani mattina ma ho sbagliato perché questo video lo caricherò domani e lo registro adesso, quindi oggi che è il 7 di luglio, questo video sarà anche quello in zoomerà con luce, quello che ho registrato prima di questo video, lo caricherò domani, però questo domani mattina e anche questo domani mattina se ci riesco, iniziamo dai video acquisti, l'ultimo pezzo unico che lo faccio vedere, ultimissimo, allora passiamo ai numeri di roba, ok, questi sono i miei miei miei, ma allora sono andati in metteria lì, allora iniziamo da questa domani qui, aspettatele da qui, no, 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 no Allora... Allora... Dio mio... Allora... 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 Ho continuato... Con il... Che si deve... Allora... Questo... Troppo precisamente via... Però... E' un'unica di giro... E' un'unica di giro... Nei testo del mare... Quindi... Uno non è realizzato... Un altro... O lo regalerò... Se lo voglio... Lo regalerò... Perché... Lungi lungo... E' un'unica di giro... 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 Due tromentini di giro... Poi... In materia... Vi faccio vedere... Adesso... Passiamo... Un'unica di giro... Un'unica di giro... E' un'unica di giro... Questo... Questo qui... Allora... Poi ho comprato... Il numero 3 di Grimson Wolf... E' un'unica di giro... E' un'unica di giro... E poi ho comprato... Un calcio di mano... Il numero numero... E' un'unica di giro... E' un'unica di giro... E' un'unica di giro... Bellissimo manga... Che ci può giocare... La recensione... Poi... Ehm... Quanto è... Questo... Questo mi ha comprato... Quindi... Ho comprato... In un'unica di giro... Questo sarà il manga... E' un'unica di giro... Che voglio... Assurdo il mio... E' un'unica di giro... Poi... Il finito... Dopo il grande... Perché... Mi fa assominare... La storia... Però... Io non tengo... Grande fan... Dei Splunk... E' un'unica di giro... E' un'unica di giro... E' un'unica di giro... Quindi... Dopo... Ci ho riminciato... E' un'unica di giro... Ah... Poi... E' un'unica di giro... E' un'unica di giro... E' un'unica di giro... facciate tranquilli ops poi il numero 5 ancora voglio mettere da parte le letture ok poi numero 1 per curiosità per curiosità è grandissima diciamo anche la sua grafica no vabbè la stessa anche su questa verrà la stessa poi questo è l'esimetria poi l'ultimo as 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 un as un as un 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 po un 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 Adesso, farò un'altra parte, togliere! Pronti con la sua persona? Voilà! Mi sono comprato il box, se si vede bene, di Sbord Art Online Ancrat. Entrammi i numeri e devo ancora iniziarlo a leggere. C'è qua il numero uno, Samus Braco Bertina e il numero due. Se si potesse togliere, voglio farla qui. Qua il dietro è di questo. Ragazzi, io sono un grande fan di Sbord Art Online e spero che anche a voi vi piacere questo anime. Come mi piace a me, vi faccio vedere la prima pagina del primo numero, poi, della J-Pop. Poi, vabbè, c'è proprio Bertina. Bello, bello, bello. Mamma mia, ragazzi, sono entrato in fumetteria, io gli ho chiesto. Cerco due fumetti. Cercavo Sean King Flowers numero tre, che sono proprio troppi, però con altri fumetti, ragazzi. e il secondo era questo. Cercavo il numero uno, però, dato che loro gli hanno dato il box, mi sono comprato il box. anche se... Vi scriverò sotto quando costa tutto il momento che ho comprato. Quindi... Il pip vorrà per me. Inizierò da domani a leggere il primo numero sbordato online, perché non vedo l'ora. E ci farò anche la recensione. prenderò il primo numero, quello farò vedere e spaginerò un po' di miei scene. E vabbè. Questo è il video acquisto. Beh, vabbè. Invece oggi non ho comprato di niente, perché... in questi giorni... Poi, fra poco, comprano un'omma che ho tenuto un po' di soldoni per me, per il regalo che ti voglio fare. E... E vabbè. Nel prossimo video... Nel prossimo video, però, finito. Eh, ragazzo, allora, faccio un piccolo annuncio. Dato che molti... Anzi... Tanti mi chiedono sempre se... Anzi, una ragazza mi ha chiesto se farò io. Tutti i finali di League, della serie, che sto facendo. E ringrazio... L'unico iscritto che mi fa ammettere i miei piaggi e io lo indizio. Non so chi è stato ammettere i miei piaggi, perché... Però io non me ne vedo. Però io ringrazio quella persona, faccio nomi, perché lui sa che mi segue molto tempo. E gli voglio abbastanza bene per il mio amico. E vabbè. Eh, allora, io farò tutti i finali. Però... Quando finirò la serie di League... Non so più quale... Quale serie volete? Scrivetemi il link... Ne... Anzi, nei commenti di questo video... Quale... Ehm... Quale gioco vorrete? Cioè... Ehm... Mi inviate tramite... Ehm... Pagina... Tu Facebook... Io mi linkerò... Come mi chiamo e... Mi scriverò come mi chiamo... E mi scriverete il gioco. E me lo mette... Mi mette dei link del download... Perché... Io... Per trovate ci voglio tre mila anni... E poi non ci vorrà molto. Per Stargirl... Io a Stargirl... Non ci giocherò... Quindi non ci giocherò. Però... Prometto che... Quando ci... Cioè... Alcune di tempo... Ehm... Farò questo... Il video di Stargirl. Ultima cosa... Che... Quando uscirà su Hell's or Dad... Farò il video... Insieme a un mio amico. Quindi va bene ragazzi... Ci vediamo al prossimo video... Ciao da Battle Spirits... E' mandato... Anzi... Da Battle Spirits... E' mandato il tutto... Ciao... E alla prossima...